buongiorno a tutti e ben ritrovati oggi andiamo a vedere ancora qualche esercizio che mi ha mandato via mail valerio saranno principalmente esercizi matematici quindi problemi matematici e delle sequenze numeriche un po diverse rispetto a quelle che avevo già fatto e che quindi andremo ad analizzare insieme allora partiamo dalla prima domanda questo non è un esercizio particolarmente complicato il problema potrebbe eventualmente essere esserci nel caso in cui non si possa usare un foglio per fare i calcoli a mente quindi lì diventa leggermente più più dura però si può si può fare allora cosa ci dice la prima domanda ci dice che una scala è formata da 240 pioli distanziati ciascuno di 18 centimetri volendo costruire un'altra scala della stessa altezza ma con interasse tra i pioli di 15 centimetri quanti saranno i pioli quindi in sostanza la prima scala a 240 pioli ma sono un po più distanziati quindi ci calcoliamo in prima battuta quanto è lunga questa scala e per far questo non facciamo altro che andare a moltiplicare 240 pioli per i 18 centimetri e ci troviamo la lunghezza della scala che sarà di 4320 centimetri una volta che abbiamo questo risultato poi dividiamo questi 4320 diviso 15 perché è la nuova altezza di ogni di ogni piolo e quindi a quel punto abbiamo la nostra risposta di 288 quindi è un esercizio con con dei calcoli matematici in realtà abbastanza basilari non non troppo complicato poi passiamo alla domanda numero 2 allora qua siamo di fronte alle classiche sequenze numeriche cosa facciamo quando siamo di fronte a una sequenza numerica cerchiamo di capire tra i numeri che abbiamo a disposizione ed eventualmente le risposte ma questo fosse più che altro in un secondo momento il rapporto che c'è tra questi numeri a volte sono il doppio il triplo a volte tra un numero e l'altro c'è una distanza per dire di 5 di 5 di 5 di 5 di 5 così via quella sarebbe la più semplice oppure distanze a crescere o a decrescere quindi per dire dal primo al secondo numero ci passa 6 poi 7 poi 8 poi 9 piuttosto che 9 8 7 6 qua è un po' diverso però se diamo un'occhiata in realtà provate a farlo con me prima di dare la risposta si riesce a capire cosa cambia e qual è il rapporto tra questi numeri allora se vediamo 4 e 24 per esempio vediamo che 4 per 6 fa 24 poi da 24 a 12 è la metà quindi questa è la prima cosa che ci viene in mente la metà o meno 12 perché 24 meno 12 fa 12 una volta che abbiamo visto il rapporto tra 4 24 e 12 proviamo a fare la stessa cosa con i due numeri successivi quindi da 12 a 72 siamo di nuovo al per 6 perché la tabellina del 12 12 12 per 2 24 per 3 36 per 4 48 per 5 60 per 6 72 da 72 60 invece qua capiamo qualcosa in più perché tra 72 e 60 c'è meno 12 quindi se qua avevamo il dubbio che uno potesse essere il doppio dell'altro qua abbiamo la certezza nel secondo caso che è meno 12 quindi sarà uguale all'inizio a questo punto cosa succede che sarà un per 6 meno 12 per 6 meno 12 quindi per trovare il numero successivo al posto del punto interrogativo andremo a fare 60 per 6 quindi 60 per 6 fa 360 6 per 6 36 più aggiungiamo uno 0 e quindi abbiamo la nostra risposta corretta se a qualcuno interessasse sapere anche il numero successivo sarebbe di nuovo un meno 12 quindi andremo a fare 360 meno 12 quindi avremo qua il 360 e poi subito dopo 348 e cioè 360 meno 12 quindi questo è il modo di rispondere alla domanda numero 2 poi la domanda numero 3 anche qua siamo in una domanda di logica della stessa tipologia perché abbiamo 9 36 36 il quadruplo di 9 quindi 9 per 4 qua non abbiamo però un doppio o un doppio o un triplo o un qualcosa del genere quindi andiamo più sicuri che sarà un meno 13 da 23 a 92 siamo di nuovo al quadruplo quindi di nuovo un per 4 perché fa 23 46 69 e 92 poi qua abbiamo di nuovo un meno 13 quindi per andare a trovare la nostra risposta corretta si andrà a moltiplicare 79 per 4 io tendenzialmente faccio un calcolo a mente in questa maniera cioè visto che 79 è vicino a 80 faccio 80 per 4 a mente lo scrivo solo per facilità quindi 80 per 4 quindi 80 160 2 40 3 20 poi visto che era 79 era 1 e meno quindi 1 per 4 4 ripeto lo scrivo per facilità perché se lo facessimo per iscritto tanto tanto più facile sarebbe fare direttamente 79 per 4 però facendo una mente quindi viene 320 poi togliamo 4 320 meno 4 316 che è la nostra risposta corretta nel stesso discorso poi andremo a togliere 13 nella risposta dopo nel numero eventualmente richiesto qua successivamente quindi sarebbe 303 quello dopo ancora poi passiamo all'ultima serie numerica completare la sequenza col numero corretto allora qui è un po' diverso perché il numero che ci interessa trovare il primo della serie quindi dobbiamo capire cosa succede qual è il rapporto tra gli altri numeri noi vediamo che tra 67 e 127 c'è una differenza di 60 tra 127 e 247 c'è una differenza di 120 quindi andando un po' per logica avremo 120 qua 60 qua e ci aspettiamo quindi una differenza di 30 qua quindi facendo 67 meno 30 farà 37 che è la nostra risposta corretta se volessimo anche qui trovare il numero successivo 30 60 se raddoppia sempre 120 poi qua sarebbe 240 quindi 240 più 247 avremmo qua 487 come numero successivo che però in questo caso non ci interessa neanche poi andiamo alla domanda numero 5 cioè una caffetteria sala da tè acquista 50 scatola di pasticcini artigianali da 5 chili ciascuna se ogni scatola una tara di 25 grammi quanto ricava vendendo i pasticcini 5 euro al chilo allora quello che facciamo in questo caso è la scatola è da 5 chili abbiamo detto ogni scatola ognuna delle 50 scatole e lui la pasticceria la caffetteria insomma la vende a 5 euro al chilo quindi noi sappiamo che 5 per 5 25 se non ci fosse una tara ogni scatola la venderebbe a 25 euro però essendo che ci sono invece 25 grammi di tara il nostro soggetto il nostro la nostra caffetteria può vendere di fatto 4 chili 975 di di prodotto vero e proprio di pasticcini quindi noi andremo a fare 25 euro diviso 5000 che sono i chili che guadagnerebbe moltiplicando invece per appunto 4 975 che invece il netto a quel punto abbiamo un ci calcoliamo in quel modo il guadagno per ogni singola scatola lo andiamo a fare cioè 25 diviso 5000 per 4975 abbiamo 24 875 qua era un 4975 si era sul sul netto della scatola quindi a questo punto noi sappiamo che abbiamo i 25 euro 5000 è il peso lordo 4975 invece quello netto quindi i 25 euro come dicevo li andiamo a dividere per 5000 li moltiplichiamo per 4975 togliendo i 25 grammi di tara a quel punto si ha un ricavo per ogni scatola di 24 euro 875 le scatole sono 50 quindi 24,875 euro per 50 fa risultato di 1243 e 75 che quindi è la nostra risposta corretta poi vediamo ancora l'ultimo esercizio allora in questo caso cosa ci viene detto che un negozio di piccoli oggetti e articoli da regalo compra 25 scatole da 12 gadget ciascuna a 0,90 euro al gadget sapendo che per il trasporto ha speso 20 euro e che vuole realizzare un guadagno complessivo di 70 euro a quanto deve rivendere ciascun gadget allora innanzitutto noi sappiamo che quello che ha speso sono 0,90 al gadget ogni scatola ci sono 12 gadget quindi se noi calcoliamo 0,90 per 12 abbiamo 10,80 che altro non è che la spesa per ogni singola scatola per scatola moltiplichiamo poi questo 10,80 per 25 che è il numero delle scatole e a quel punto abbiamo la spesa complessiva di 270 euro a questi 270 euro però andiamo ad aggiungere 20 euro di trasporto quindi 270 più 20 fa 2,90 che è la spesa complessiva che ha compiuto il nostro soggetto lui sappiamo che vuole ricavarci 70 euro lo vediamo qua quindi se ne ha spese 2,90 aggiungiamo questi 70 euro fa 360 euro quindi lui deve avere un ricavo complessivo di 360 euro togliendo le spese di 2,90 e costi di 2,90 avere un utile di 70 euro come lo facciamo questo quindi facciamo 360 diviso 25 che sono le scatole che fa 14,40 quindi avrà un ricavo di 14,40 a scatola a quel punto dividendo 14,40 per i 12 gadget che ci sono in ogni scatola fa 1,20 e quindi è il costo di ogni gadget a cui deve vendere per avere il guadagno che appunto il nostro negozio voleva avere e quindi la nostra risposta corretta è la A che è la A la A